Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi abbiamo la domenica horror Da qui Willy e Franci gameplay Abbiamo la domenica horror Ciao William Buonasera a tutti Esatto Come sono Minecraft Allora ragazzi questo è un gioco che penso conosceranno Abbastanza Si chiama This by Light E' un gioco horror dove c'è un killer Questo dove sto mirando io Questo è William che è un killer E niente dobbiamo Sopravvivere dobbiamo accendere 5 generatori E uscire dalle due porte principali Ovviamente penso che ve lo conoscete Io metto pronto e iniziamo William aspettative? Ti massacrerò per prima Ma zio pera Allora ragazzi Spiego io Per queste Per i miei tre partite che faremo insieme Le facciamo con private Con i bot Esatto Tanto per farvi capire un po' come funziona Poi magari se Ve lo volete anche installare E volete farci con noi Vabbè prossimo Esatto Quattro tronchi C'hai Allora i tronchi praticamente sono dei potenziamenti alla vita Quanto ho capito Eh il bro e il ghostface Ci sono ovviamente dei killer che vengono anche da serie tv famose E altri inventati del gioco Esatto Michael Myers Ghostface Chucky Alien Eh penso basta Ah siamo nella clinica Ah si voglia Siamo nella clinica Allora io non gioco da un botto a sto gioco Non mi ricordo come si corre Ah ok ecco Mi ha fatto cagare in mano questa troia con i capelli a caschetto Eh ragazzi questi sono degli agganci dove lui ci può appizzare Letteralmente Meno male che non si è messo il bro Michael Myers Che se no era un po' infattibile Eh eh Ahia ahia Non ci cado I personaggi hanno anche Delle abilità Anche il killer ha delle abilità speciali Dale Stupendo qui Quando si attivano i generatori Però dobbiamo evitare il timer Però se non dici con il settimo generato Orrador Avevo in tonità Perché se no Non guarda Io A posto A posto A posto vale A posto vale Ma ci stiamo Ora ci spuntano Ah ragazzi quando sentite battere il cuore vuol dire che è vicino Corri Per lo più di Questa volta non mi ha battuto il cuore E comunque è molto vicino Beh è la fattita Dove è andato il fuoco Fuoco Ah mi c'è la mia schizia Ma molto Hitler Non netto Cazzo Bravo Gli avete fatto il generatore I botti a loro fermano a qualcosa Io so dove sei però C'ho visto che hai abbastato un boccato Non l'ho abbastato ma ci sono saltato sopra Però va bene Grazie per l'intervento Dove sei William Ma io voglio vederti Vogliono farti Mi sembra come una bimba Molto simpatica Ma William Ma non si fanno queste cose alle bambine Ma come ti permetti Ma come è il mio Ma cazzo 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 E' per questo Fa tanto in tanti Dove fa tanto in tanti E' niente Francesco Non ci dicevo Quanto stavo scherzando Brutto camper Mi stavo acciocando Sta brutta cinesa Cinesona Come te lo sei presa nel culettino Aio vieni qua Aio vieni qua No Calabrese Francesco ti sento molto silenzioso Sto cercando di sopravvivere Sai com'è E comunque mi hanno mutato perché c'erano degli strani In casa mia Oh io non riesco a Non ho ancora fatto un generatore Cavolo Che è successo? Un certo studio per i gacci Come direi Sento un certo rinno La coreana non poteva salvarla E niente Come avrei stato perdendo il culetto Come avrei stato perdendo il culetto Che c'è Aia Brutto nazista Corri No No è niente A te puzzalano Accecalo Fai fuoco Non mi sa che l'avrei una fila torcia Mi sa che gli è finita Mi sa che mi è pure scappata No No Sono un bambino cattivo Non volevo Sono un bambino cattivo Sono un bambino cattivo Porto 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 Lontano Perché Non mi sono Anche ce la faccio Ce la faccio Un bacio Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Come ti permetti Di ammazzarmi Ma quanto Cancro Puoi avere Nord coreana Brava E sopra la piatta Nel culetto Abbiamo Abbiamo fatto Due generatori In tutto sto tempo E intanto Un altro senso Sta per andare a gaccio No Brutto Feticista Fedofilo Senza dignità Come ti permetti Cioè ma come di parlarti Ti chiamarmi stronzo Non tu lo sai Con chi Cazzo stai parlando Cioè c'è uno che lavora Alla eb Vero E niente Oh cavolo Corri Ciao Con il sticchio A te devi tornare Per un Sticchiato Per cabin Ahia Ah quindi mi lasci Per ultimo Sì sì Però E niente No compa Se mi metti al gancio Mi ammazzi Poi aspetta un tigolo, prendi un piatto, prendi un piatto, mi rimango, un giallo mi manca, non pensi che ti puoi lasciare vivere No compa no, non essere solo un soppliso Fa la foto il bro E niente mi ho ammazzato, io ci ho perso Allora vediamo come se la possono gli altri Ma è scema Fatti il gen C'è qualcuno che si sta facendo un gen? Sì Ah davvero? No perché sei andata? Vabbè Perché è un pedro, pedro, pedro Perché è un pedro, è un pedobea Compa la copyright Accercala No Non mi puoi morire così E un'altra mi sa che se la... Non mi può morire così questa, cavolo Non è che forse si libera Può essere No Questa Non ce l'ho fatta Poverino Poverino, poverino Questa bambina Ma non mi viene un altro bello A posto Abbiamo vinto Una vincerà Non tutti Vincerà a nord coreana signora Stai che la la di merda Lei riesce a scappare ma gli altri Non mi viene un altro bello Lei riescerà a scappare ma gli altri Non mi viene un altro bello Ah non scappa lei Devo andare a salvare la bro La bro è scema Mi sa che resterà da sola se vuole salvare la bro Oh cavolo Ah io ci fa pure un'altra E te l'hanno presa nel culo Te l'hanno messa nel culo con classe signori Con classe te l'hanno messa nel culo Te l'hanno messa nel culo a gratis E niente Bye 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 Non lo so Non so dove sta andando Sinceramente Non la capisco E' ferita poverina Sta morendo C'è il ciclo Ha le sue cose Potrebbe anche trovare la botola e scappare E ha trovato la botola Perché? Perché devo parlare? Perché ho questo diritto? Allora ragazzi ora Sono il killer Forse è meglio che facciamo solo due partite Perché una partita mi sa che durò un po' troppo Una partita è durata 13 minuti Quindi un'altra partita e chiudiamo ragazzi Però passa Speriamo che vi piaccia sto contenuto Perché è anche l'unico giocatore Perché vi possiamo portare per ora Vabbè io vi porterò anche i single player Senza William Ma vabbè William in cuffie però Però vi porterò i single player anche Allora vediamo Vediamo che killer Li possiamo mettere al bro Al bro Chi potrei mettere? Chi passa Io sono indeciso tra Singularità Ho scelto Però aspetta fammi mettere l'equipaggiamento Allora accessori L'offerta L'offerta Penso Spero Io sono pronto È un killer che ancora non l'ho mai usato Il chiave Arriva il gorilla giallo Gorilla giallo Gorilla giallo Dimmi che non spunta nell'etichetta Per favore Vediamo che cosa è bella Che non possono vedere i giocatori Chi è il killer Ma siete stronzi Fino alla fine Quattro Quattro momento mori Esatto Ma ve lo spunto Che cosa sono? Te lo dico Per ora Speriamo Volevo che fossi una sorpresa Ok a posto Oddio questa mappa Porca puttana A posto Ah niente E tu mi dribbli un po' E tu che ho visto un tazzo Guarda me Minchia si è messa Come si chiama? La sacqua Il panico Come cazzo si chiama qua? Vieni qua Dove fai? C'è i miei panni No? Botto più miei panni E' buono Un canto Ah abbassardo Non me l'avevo visto Ah andate le palle però Intanto Intanto Stanno finendo un generatore Come sono a riuscire Non ci riuscire a pensare Troppo a me però Infatti hai ragione Però sei tu Quello che fai I generatori Più in fretta E' un'altra Ma intanto Per quanto che Ti riesce a dribbla Quindi ti consiglio Di pentire Il tuo aiuto Fidati Perché se ti triggi con lì Lada avanti Almeno Non ti dribblo Ai meno rischi Che finiscano in genere E' ci pensi Guarda durante una sessione Ci sta vero Cosa cosa Durante una sessione Si scarica il controllo Mi piace Ah Porco 2 Io non lo so Usare sto killer Lo sai Lo sto killer Non lo so fare Sinceramente no A correre più veloce Ebbè Non come a questo Quando colpisci un giro Vissuto Tu lo dovresti colpire Varie volte Per alterlarla Una delle sue Quando la sue Ne colpisci uno Ti indica tutti gli altri E li ferisci tutti Cioè li basi Tutti Perché colpo E li vedi Bene Colpisci Se ho la frenesia Esatto Se lei calca Io ne ho perso Uno succulente Era una ragazza No Allora era con Un'introgetta Che cacchino c'è No No Se mi ha fatto Vabbè Mi cazzo Guardalo 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 Affanculo Cioè mi ha fregato una Un botte mi ha fregato Perché ci voglia tanto Però Guarda ti sento vicino Mi sembra che sei nella nave Però io non lo so 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 Non ti vedo Mi senti e non mi vedi Ah ecco ti Eh sono tappiore E vabbè Ti ho spiegato Che c'era questa Min Ci avete fatto un botto di generatori Ma fate cacare Io che faccio Ti prego Ti prego Il cancro è venuto Eh io non so giocare Sono venuto abbastanza Non devo essere sincero Sono bravo nei single player Anche Ah ahia Infatti ve lo porterò Però non security breach Perché Non perché Sì Tuo padre Eh vabbè Ma allora fate cagare a spruzzo Allora Allora non meritate di esistere Non mi ho ammazzato Manco uno Eh dai Corri Spettuto di me Eh no vabbè Mi ha ciecato Il bimbo balonzo Non mi è piaciuta Questa partita Qua non voglia T'è stato Faccia vita Oh no ne ho ammazzato Manco uno Ma faccio cagare Meno male che sto video Sta per terminare Mi sai che ammazzarei me Forse Se mi dai la grazia Senza forse Al fatto è questo Ti sono scappato Dove sei? Non è come brutta Che il killer Non può correre Cavolo Eh sì Vabbè Se non sarebbe troppo qui Detta sinceramente Vabbè sì Eh vabbè Allora non c'è la soddisfazione Dai Ti ho tenuto Per quanto la durata La partita Possiamo dire Metà partita Eh vabbè C'è la soddisfazione Occupa non ti dimenare Premi la soddisfazione Cavolo Eh niente Il povero Angelo Fe ne è andato in cielo Signori Che dire Questa partita è stata Veramente Una cagata Dire che noi Vi possiamo salvare Esatto Per oggi vi salutiamo Buona domenica Grazie a tutti Non Mi diventate traumatizzati Da William Franci Gameplay è tutto Noi ci vediamo Domani con un altro video Probabilmente O Ciao ragazzi Prima di salutare Volevo aggiungere un'altra cosa Domani vi porteremo Penso due video Perché Da una parte dobbiamo continuare Minecraft Da l'altra parte Dobbiamo Dovemo iniziare Esatto Dobbiamo iniziare a sender di Quindi Facciamo una cosa Domani mattina No Domani mattina no Perché il bro dorme Ho idea Ho idea Volevo fare Aspett 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 Gli portiamo Minecraft Cioè no Gli portiamo sender di E al posto di Minecraft Gli portiamo L'altro contenuto speciale Cioè Non lo ricordo È capito Quello Lo zio Pera Vabbè Me lo direi in camera Va bene ragazzi Per questa domanica è tutto Spero che vi sia piaciuto il video horror Non so che non è stato molto horror Però dico Spero che vi sia piaciuto Dal vostro William e Francia del Play è tutto Ci vediamo con una prossima domanica horror Ciao ragazzi Ciao ragazzi